Spesso chi amministra dimentica una cosa fondamentale, che la città appartiene ai cittadini, come quindi appartiene ai comaschi. Questo è il metodo che noi vogliamo attuare e questo è quello che faremo se voi ci aiuterete ad attuare il nostro progetto. Per anni abbiamo dovuto convivere con un'amministrazione di centro-destra che soprattutto nell'ultima legislatura ha fatto dell'autoreferenzialità il suo metodo di lavoro. Noi vogliamo cambiare questo metodo di amministrare.